Tutto sommato, le vetrate delle cattedrali gotiche erano il fioro all'occhiello della tecnologia dell'epoca e non solo. Potremmo addirittura definirle i televisori QLED del Medioevo. Buongiorno e benvenuti al Caffè Bor. Il premio Nobel per la chimica del 2023 è stato assegnato a tre scienziati in ugual misura. Munghi Bawendi, del Massachusetts Institute of Technology, MIT, Louis Bruce, della Columbia University, Alexei Echimov, del Nanocrystal Technology Incorporated, per la scoperta, la sintesi e lo sviluppo dei quantum dot, avvenuta tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90. Questi risultati rientrano nel campo delle nanoscienze e nanotecnologie, che sono discipline che nascono dalla fusione delle scienze con le applicazioni tecnologiche alla scala nanometrica. Un nanometro non è un metro nano, ma equivale ad un sottomultiplo del metro pari a un miliardesimo di metro, ovvero un millesimo di millesimo di millimetro, equivalente alla dimensione di appena pochi atomi. Sebbene queste scoperte siano valse ai tre scienziati di prima il premio Nobel per la chimica di quest'anno, in realtà si tratta di argomenti trasversali che abbracciano diverse discipline, dalla fisica alla chimica alle biotecnologie. Quindi non perdetevi questo video! Ben ritrovati al Caffè Bor. Avete presente quando andate in una cattedrale gotica e vedete quelle imponenti e coloratissime vetrate? Ebbene, i mastri artigiani che erano artefici di queste vetrate, di questi vetri, di queste vere e proprie opere d'arte, in realtà erano anche alchimisti, detentori di quel sapere precursore della odierna chimica. Infatti questi artigiani erano in grado di ottenere una vasta gamma cromatica di vetri aggiungendo al vetro fuso alcuni materiali. Ad esempio il colore rosso era ottenuto aggiungendo una piccola quantità di cloruro aurico, un sale d'oro dell'acido cloridrico, mentre il giallo era ottenuto aggiungendo particelle di nitrato d'argento. Quello che però non potevano sapere era che questi materiali erano in realtà delle vere e proprie nanotecnologie, cioè erano formati da nanoparticelle, ovvero da particelle della dimensione nanometrica, appunto di un miliardesimo di metro. Pertanto possiamo dire che le nanoparticelle di oro e argento che venivano così aggiunte al vetro fuso agivano in una maniera simile a quello che fanno i quantum dot nei moderni televisori QLED, riflettendo e assorbendo specifiche lunghezze d'onda della luce, e quindi diversi colori, a seconda delle loro dimensioni. Tutto sommato, le vetrate delle cattedrali gotiche erano il fiore all'occhiello della tecnologia dell'epoca e non solo. Potremmo addirittura definirle i televisori QLED del Medioevo. La scoperta dei quantum dot, o punti quantici, talvolta chiamati anche atomi artificiali, è stato il primo passo verso lo sviluppo delle nanoscienze e delle nanotecnologie, cioè quelle discipline che studiano e sfruttano le proprietà di particelle alla scala nanometrica inferiore ai 100 nanometri, ovvero inferiore a un decimo di millesimo di millimetro. Questa, infatti, è la scala della lunghezza d'onda della luce visibile e anche della lunghezza d'onda dell'onda di De Broglie delle particelle. Infatti noi sappiamo che, come la meccanica quantistica ci insegna, le particelle si comportano anche ad una scala appunto nanometrica come delle onde e quindi anche gli elettroni si comportano come delle onde e hanno una lunghezza d'onda. Ebbene, questa lunghezza d'onda è proprio della scala nanometrica di poche decine o al più centinaia di nanometri. In tutti questi casi in cui quindi si utilizzano delle particelle che hanno una dimensione di alcuni nanometri, oppure vengono modificati e modellati i materiali e le loro superfici ad una scala appunto nanometrica, si parla di nanostrutture o nanoparticelle. Le nanotecnologie poi attualmente sfruttano le proprietà fisiche e chimiche quantistiche delle nanoparticelle e di queste nanostrutture per migliorare le tecnologie già esistenti o per crearne addirittura di nuove. Ma che cosa sono i punti quantici o quantum dot? I punti quantici, talvolta chiamate anche atomi artificiali, sono una classe di materiali che non sono configurabili né come materiali molecolari, cioè composti da varie molecole ripetute, né solidi cristallini o bulk, come sono gli altri materiali che invece hanno una struttura più macroscopica. I punti quantici, invece, sono formati dalla stessa struttura cristallina, cioè dalla stessa disposizione degli atomi dei solidi cristallini normali. Tuttavia, hanno delle dimensioni ridotte appunto alla scala nanometrica, cioè di un millesimo di millesimo di millimetro, e alcune delle loro proprietà dipendono proprio dal fatto di avere una dimensione molto ridotta. Ad esempio, se prendiamo il seleniuro di cadmio e ne facciamo una particella molto grande, non nanometrica, ovvero se prendiamo un pezzo di questo materiale, quindi un solido cristallino, questo ha un'energia di gap, cioè un intervallo di banda, di circa 3 elettronvolt. Questo significa che non è in grado di assorbire energia al di sotto di questo valore di soglia, cioè 3 elettronvolt, che è proprio l'energia della luce visibile. Questo significa che questo materiale di per sé è trasparente. Tuttavia, se ne facciamo una nanoparticella e prendiamo la più piccola possibile nanoparticella di seleniuro di cadmio, ebbene questa ha un gap di energia di 1,8 elettronvolt. Questo significa che può assorbire tutta la radiazione visibile, tutta l'energia, al di sopra di 1,8 elettronvolt, e quindi anche la luce visibile. Questo è un esempio in cui le proprietà elettroniche e di conseguenza le proprietà ottiche di un materiale dipendono intrinsecamente dalla dimensione, dalla scala della particella stessa. In altri casi, invece, cambiando le dimensioni delle particelle, possono cambiare altre proprietà, come per esempio la temperatura di fusione, o i potenziali delle reazioni chimiche con cui reagiscono, e così via. I punti quantici propriamente detti sono delle nanostrutture formate da un guscio esterne, costituite da un materiale semiconduttore con una banda proibita di energia molto grande, con all'interno invece un altro semiconduttore, che ha una banda di energia proibita molto più piccola, confrontabile quindi con la lunghezza d'onda, per esempio, degli elettroni del materiale stesso. Questa configurazione dunque a guscio, con uno strato più esterno ed uno più interno, con una grande differenza tra i livelli di energia tra il materiale esterno e quello interno, fa sì che gli elettroni siano costretti a stare nella parte più interna, nel nucleo. Per questo motivo i quantum dot vengono anche chiamati atomi artificiali, proprio come negli atomi esiste un nucleo che ha una carica elettrica, in questo caso positivo, e attorno vi sono invece gli elettroni che sono legati, per via dell'interazione elettromagnetica, con il nucleo e quindi si verifica un effetto di confinamento simile, cioè di generazione di un potenziale che tiene insieme le cariche elettriche della struttura. Ma veniamo ora alle scoperte che sono valse ai tre scienziati il premio Nobel per la chimica del 2023. Nel 1979 Alexei Ekimov e i suoi collaboratori hanno misurato lo spettro di assorbimento ottico di vetri di silicato, trattati termicamente e con l'aggiunta di rame e cloro dell'ordine di qualche per cento. In particolare hanno osservato che il materiale possedeva delle caratteristiche elettroniche simili a quelle degli strati sottili di cloruro di rame, ma con alcune differenze in base al trattamento termico eseguito in precedenza. Ekimov attribuì immediatamente il risultato ad effetti quantistici legati alle dimensioni nanometriche delle particelle, che cambiavano a seconda del trattamento termico che veniva fatto inizialmente. E si riferì anche a risultati ottenuti qualche anno prima con altri esperimenti utilizzando invece delle barriere di potenziale a livello comunque di una scala nanometrica, quindi quantistica. Infatti, come ci si aspetta dai calcoli della meccanica quantistica, confinando degli elettroni, delle particelle, all'interno di una palla appunto, di una sfera, di una nanoparticella con dimensioni appunto nanometriche, le righe, lo spettro di assorbimento cambia al cambiare della dimensione, cioè del diametro di questa nanoparticella. Erano così stati scoperti i punti quantici a semiconduttore o semiconductor quantum dots. Le prove degli effetti quantistici delle nanoparticelle colloidali venne fornito qualche anno più tardi, nel 1983, da Luis Bruce, studiando aggregati cristallini di solfuro di cadmio. In seguito, Bruce presentò anche un modello teorico per descrivere il cambiamento del potenziale chimico delle reazioni redox a seconda del variare della dimensione di queste nanoparticelle. E si accorse che questo modello teorico era in grado anche di descrivere alcuni risultati che erano stati ottenuti già a partire dagli anni Sessanta, ma a cui non si era riusciti a dare una spiegazione e non erano stati in realtà compresi. Arriva così il 1993, quando Munghi, Bawendi e collaboratori hanno sviluppato un metodo di sintesi, cioè di produzione, di queste nanoparticelle che permetteva di realizzare punti quantici colloidali in maniera molto più precisa e di qualità superiore. In questo modo sono state aperte le porte allo sviluppo di applicazione di questi punti quantici colloidali con dimensioni inferiori di 20 nanometri, dando quindi là alle nanotecnologie propriamente dette. In conclusione, la scoperta dei quantum dot e la realizzazione di metodi chimici di sintesi di questi quantum dot in modo semplice ma accurato ha aperto le porte delle nanoscienze e delle nanotecnologie, che trovano ora applicazione in moltissimi ambiti, dalla fotonica all'elettronica, dalle biotecnologie alle tecnologie quantistiche, alle diagnosi mediche e così via. Basti pensare, ad esempio, che alcuni dei più moderni televisori hanno uno schermo cosiddetto QLED, ovvero quantum dot LED, cioè costituiti da LED a punti quantici, i quali sono in grado di emettere luce a diversa lunghezza d'onda a seconda della dimensione dei punti quantici stessi. In questo modo si riescono ad ottenere i diversi colori, come il blu, il rosso, il verde, e combinandoli si riesce a ottenere un ampio spettro cromatico, necessario appunto per gli schermi dei televisori. E con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, in questo caso non dimenticatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale per avere altri video di questo tipo e rimanere aggiornati, e condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao, alla prossima!